G.U.E. Pequeno, flirt in corso con famosa ex del Grande Fratello? L'indiscrezione. La notizia è dell'ultimo minuto e avrebbe del sorprendente sembrerebbe infatti che ci sia un flirt fra G.U.E. Pequeno. Noto rappere produttore discografico e una storica ex concorrente dell'edizione NIP del Grande Fratello. Si tratterebbe di Gwendalina Canessa, leggeffina ex moglie di Daniele Interrante. Dal quale ha avuto la primogenita Chloe. E' stata Dejanira Marzano a riportare l'indiscrezione dopo aver ricevuto una segnalazione in direct. La follower dell'esperta di Gossip avrebbe visto i due in un hotel a Lugano dopo aver scritto al blogger Amedeo Venza. Ha contattato anche l'influencer di Origini Campane. L'ex protagonista della settima edizione del Grande Fratello, all'epoca condotta da Alessia Marcuzzi. Diverse settimane fa era stata avvistata in compagnia di Eugenio Colombo in un locale. I due sono stari immortalati mentre si scambiavano un bacio appassionato.